Il professor Abbate Daga, che vi vado a presentare, che è professore associato presso il Dipartimento di Neuroscienze dell'Università di Torino, direttore del Master di Primo Livello in PNEI presso il medesimo Ateneo, medico specialista in psichiatria. Ci presenterà una relazione dal titolo Psichiatria e Medicina Integrata, la complessità dei disturbi del comportamento alimentare. Grazie a voi, ho percepito veramente un aspetto emozionale importante e questo denota anche la passione e la competenza di tutti voi. Mi occuperò in realtà di declinarla in un tema molto clinico, in quanto la ricerca che faccio nell'Ottica PNEI è una ricerca su disturbi alimentari. È una patologia che per sua natura porta un problema di non integrazione spesso delle cure di queste pazienti, come vedremo, e anche però non integrazione dei molteplici e complessi fattori che possono essere all'origine, ma anche nel mantenimento del disturbo. E questo secondo me può essere molto molto interessante anche in prospettiva di cure non solo, come vedremo, basate sulla psicoterapia, la parola, che rimane comunque un punto importante. Allora, un breve riassunto introduttivo per chi non conosce la patologia. L'anoressia prevede un'importante perdita di peso, certamente un peso molto basso, e una malnutrizione di cui parleremo, ma soprattutto chi soffre di questo disturbo è pervaso da un'unica idea legata a ciò che mangio e quanto è magro il mio corpo. Certamente alla base di questo problema vi è un disagio di tipo psicologico che però poi non è l'unico motore della malattia, come andremo a dire. È una malattia considerata dagli psichiatri grave, questo è un consensus famoso nel nostro campo, considerata grave come la schizofrenia e i disturbi bipolari. Sia per il carico oggettivo, sia per le alterazioni, ed è una patologia che ha un rischio elevato di morte. Negli adolescenti, dopo gli incidenti automobilistici, è la seconda causa di morte. Anche, come si vede, non solo per motivi di tipo organico, ma anche in alcuni casi per suicidio. È una patologia che è difficile da curare perché, e questo è intrigante nel concetto di salute e di malattia, spesso le ragazze sentono questa malattia in realtà come un'autocura, come qualcosa che le appartiene, qualcosa che le fa star meglio, anche se poi questo effettivamente non è vero, ma il loro percepito è questo, e questo mantiene potentemente la malattia, i comportamenti li rinforza, e rende difficoltoso il rapporto terapeutico. Vi sono dei fattori della complessità, i fattori che entrano in gioco, un po' come in tutte le malattie, sono complessi, e sono dei fattori sia da vedere nel tempo, all'inizio c'è la genetica, c'è la nostra nascita, ci sono le relazioni, questo sì che è sistemico, tutto quello che succede nel nostro mondo, nella nostra vita, ma poi si sviluppano anche degli importanti fattori di mantenimento attorno proprio a quel concetto di identità corporea, che qua non riesco a farvi, no, torniamo indietro, di identità corporea che è al centro della problematica della malattia, identità corporea che proprio perde la sua capacità di concetto multidimensionale integrato per perdersi nella unica dimensione della immagine corporea, di quindi come gli altri mi vedono, mi è fatto molto piacere, anche mi è emozionato l'intervento di questa mattina, di come siamo anche inseriti in una cultura della immagine, quindi questo ha un suo peso. Perché possiamo parlare di medicina integrata? Perché prima di arrivare al fondo, agli aspetti più emotivi, psicologici, che sono quelli conosciuti, in realtà vi sono tanti sistemi che interagiscono nella causalità della malattia e nel mantenimento. Uno è sicuramente l'alimentazione, cercherò di spiegarvelo, vi è però anche l'iperattività, l'attività fisica, che per alcuni di questi pazienti è molto elevata e non è di tipo ricreativo e piacevole, equilibrata, ma è assolutamente compulsiva e disregolata. Vi è la problematica del reward, del piacere e della ricompensa. Vi è però anche una problematica riguardo all'infiammazione, la regolazione dello stress. Vi è una problematica di come viene percepito il corpo, ma anche il gusto, anche l'immagine, e vedremo alcuni aspetti, e vi è ovviamente il concetto di regolazione emozionale. Veniamo quindi alla prima area, io cercherò di dare delle suggestioni, ovviamente perché la complessità viene sempre ridotta in un intervento, ma l'idea è anche per dare degli spunti. L'alimentazione, beh, l'alimentazione è forse l'essenza dell'integrazione, è il comportamento umano più biopsicosociale che abbiamo, credo. Tutti noi comunque più momenti al giorno pensiamo al cibo, lavoriamo sul cibo, la cultura è estrema sul cibo, in tutte le nostre culture di tipo mondiale, ma chi soffre di rischio alimentare poi arriva a desiderare di poter mangiare soltanto così, anzi, a volte potesse anche non mangiare. Questo è un primo di squilibrio di un sistema che è un sistema di sopravvivenza, è un sistema naturale e che riverbera molto più che di si crede sugli aspetti mentali. Questa diapositiva un po' complessa ci fa vedere quanto, vedete lì la colonna, i geni che regolano l'appetito e regolano il peso sono essenzialmente dei geni che regolano il funzionamento cerebrale. Certo c'è anche il cardiovascolare, c'è anche il digestivo, l'endocrino, ma guardate la rappresentatività del sistema nervoso. Quindi vi è un'interfaccia notevolissima con quello che mangiamo e il funzionamento del nostro cervello. Questo è, visto in un'altra ottica, una regolazione che parte dal periferico e interviene sul cervello, nel senso di fame e sazietà, ma anche il cervello che ci motiva i comportamenti, crea dei comportamenti, ci dà il piacere, per cui alla fine noi possiamo mangiare molto di più che quello che è la nostra sazietà, ma ci dà anche un controllo cognitivo, per cui poi alla fine noi possiamo mangiare molto di meno di quello che ci indicherebbe il piacere o i centri di fame e sazietà. Quindi c'è un'articolazione di sistemi tra periferico e cervello e di sistemi all'interno del cervello. Andando a vedere cosa fa l'alimentazione, guardate che l'alimentazione intesa come malnutrizione, le ragazze che soffrono di anoressia nervosa arrivano a mangiare molto male, qualitativamente, quantitativamente. Si parla di 300-500 kcal al giorno, generalmente escludendo quasi completamente i carboidrati e totalmente i lipidi, quindi altamente disquilibrato. Si sa già da esperimenti sugli anni 50, su volontari maschi, quindi togliamo il discorso culturale, certamente la nostra cultura centra, ma è un fattore predisponente nella complessità, non può essere l'unico sistema. Le modelle, l'idea positiva che abbiamo nella magrezza, l'idea soprattutto negativa e giudicante che abbiamo delle persone che soffrono di obesità, ma si è visto che l'effetto è molto elevato. Sono stati messi a una dieta, che diremmo di tipo anoressico, dei giovani ragazzi per parecchie settimane. Cosa succedeva? Succedevano tante cose, ma soprattutto degli aspetti psichici. L'abilità e instabilità dell'umore. I soggetti incominciavano a diventare troppo sensibili, a piccoli stimoli, perdevano la pazienza, si mettevano a piangere, diventavano irritabili. Insicurezza, l'individuo è più insicuro, è più requieto, anche fisicamente tende a muoversi, tende ad agitarsi. Ritiro sociale, meno attenzione al sistema di relazioni sociale, meno piacere di stare con gli altri. Tornando alle pazienti, le pazienti vi dicono è cambiato il mio mondo, io non ho più voglia di vedere gli amici, certo perché si va anche a mangiare fuori, ma non è solo quello. Io non ho più voglia di stare con la ragazza o con il ragazzo, perché mi interessa di meno. Sono presa da questa ossessione per il cibo che è l'ultimo effetto. I primi tre effetti si instaurano abbastanza rapidamente. Chi digiuna prima una luna di miele, si sente molto forte, molto carico e dopo, se il digiuno è estremo, può arrivare invece a queste alterazioni negli aspetti psichici. Ma dopo qualche settimana vi è un'ossessione per il cibo, cioè il cervello incomincia a pensare al cibo, incomincia a aspettarsi il cibo, incomincia a avere delle ritualizzazioni sul cibo. Mentre quando il soggetto è rinutrito, i primi tre elementi passano, come un evento traumatico, l'ossessione per il cibo rimane. E questo è problematico in malattia, perché le ragazze che si rielementano, riequilibrono il sistema, tornano a mangiare correttamente, sentono molta fame, pensano molto al cibo e si spaventano. Dicono non è vero che noi stiamo riequilibrando un sistema e invece è vero che io sono un'ingorda e diventerò un'obesa e quindi tendono a ricadere. Questo però è dovuto proprio a una disregolazione data dalla manutrizione stessa. Da qui deriva che gli interventi preventivi sulle diete e sulla salute sono importantissimi in questo disturbo. Una dieta aumenta il rischio di slatentizzare un disturbo alimentare di 23 volte in adolescenza. Quando dico dieta, dico sempre una dieta scorretta, come vi ho descritto. Elementi più nuovi, la dieta, come si sa, influenza anche il nostro microbiota, sono le ricerche degli ultimi dieci anni. E in anonessia nervosa questo è particolarmente importante, perché dà l'effetto peggiore, che è la diminuzione della eterogenità della nostra flora batterica, che ha degli effetti psichici rilevanti, che vanno a rinforzare gli elementi psichici che vi ho raccontato. E vi è anche un aumento di alcune specie di batteri che possono ricercare, favorire un ambiente che richiede meno cibo e più putrefazione, quindi mantenendo sia gli aspetti psichici sia la ricerca minore di cibo. Questo è un elemento discusso. Gli studiosi che se ne occupano sono di altissimo livello. La professoressa Biulli, che è una dei massimi studiosi nel campo dei disturbi alimentari. Rapidamente, correndo. Iperattività e reward. Dato stupefacente, chi ha curato queste pazienti sa che hanno un cattivo rapporto col piacere. Non solo col cibo, ma in generale. Questo può essere complesso, legato a aspetti genetici, aspetti di sviluppo, aspetti intrapsichici. Sarebbe da approfondire. Qui porto una prova di tipo biologico secco, per capirci. Quando in ragazze guarite all'anoressia viene somministrato un'anfetamina, rispetto ai controlli, vi è un aumento dell'ansia. Ciò che è, in genere, la trasmissione, una delle neurotrasmissioni biochimiche del piacere, e quindi che ci rilascia, ci rende più aperti, in realtà irrigidisce queste pazienti. E questo può essere una prova biologica indiretta. Più interessante, e questa è una diapositiva molto complessa, quindi non ho tempo di spiegarvi nei suoi dettagli, vi chiedo di darmi fiducia, il fatto che le ragazze che soffrono di anoressia nervosa, anche quando guarite, quindi permane questo, potrebbe essere premorboso, hanno un'alterazione del tono serotoninergico. Al di là dell'aspetto biologico, la cosa interessante è che per loro entrare a fare una dieta potrebbe essere di nuovo un modo per autocurarsi, perché diminuendo quel tono serotoninergico loro apparentemente stanno meglio. Stanno meglio, ma al prezzo di disregolare tutti gli altri sistemi, come abbiamo detto, quindi meglio da una parte e peggio dall'altra. Però c'è un tentativo di regolare di nuovo il sistema. E poi c'è questo esperimento che è bellissimo. Questo esperimento è molto noto fra gli studiosi, è il fatto che c'è un baco nel sistema del reward in animali che hanno certe somiglianze con noi, come i ratti, i topi, i roditori in genere. Questo modello si basa sul fatto che se un ratto viene messo in una gabbia senza cibo, tranne per un'ora al giorno, e in quell'ora al giorno il cibo è ad libitum, quanto il topo potrebbe desiderare, e per le altre ore viene sempre lasciata, per le 24 ore, una ruota in cui può fare attività fisica, nel tempo il ratto perde peso e si appassiona all'attività fisica. E anche quando arriva al cibo non va a mangiare, mangia di meno, quindi perde peso non solo per l'attività, ma mangia di meno e contigua in maniera estenuante la sua attività fisica. Questo perché un po' come noi esseri umani il reward è legato all'attività fisica. Però è un baco del sistema perché adesso non viene più fatto per fortuna per motivi etici, ma nei primi esperimenti i ratti arrivavano a morire. Adesso l'esperimento viene interrotto dopo il 25% della partita del peso e mi sembra soltanto giusto, però voi vedete che il reward per l'attività fisica diventa travolgente il sistema, questo probabilmente per motivi evoluzionistici, probabilmente un topo affamato deve girare, girare, girare e deve piacerli muoversi, perché questo è importante per trovare serendipity, a caso, random, trovare del cibo. Rimanendo invece in un circuito, ahimè, come dire, alterato, non trova il cibo, gli rimane la passione e questo crea un baco nel sistema. Guardate che è importante, alcune ragazze in un'iperattività fisica estrema, in reparto alcune a cui misuriamo l'attività, arrivano a 40-50 km al giorno, tutti i giorni, non li ferma neanche la tendinite che spesso si sviluppa, con rischi anche di cadute, e a volte, ahimè, camminano fino al giorno prima di avere poi dei mancamenti e degli aspetti, cioè il nostro cervello nella disregolazione di quella che l'attività fisica in malnutrizione in alcune persone può portare al rinforzo della malattia. Notare che i ratti più a rischio sono giovani e adolescenti femmine e ovviamente non sanno nulla delle nostre modelle, quindi non è un fattore di tipo culturale, ovviamente in questo senso. C'è poi un altro aspetto sul reward che invece riguarda gli aspetti cognitivo di alto livello. Si è visto tramite gli studi di risonanza magnetica che il cervello di chi soffre o ha sofferto, quindi è guarito, è distrutto alimentare, laddove in risonanza magnetica funzionale vede un'immagine di corpo magro ha un'attivazione ovviamente dei centri visivi ma della sua costruzione mentale rispetto ai centri del piacere. Cioè lo stimolo dato dalla vista del piacere è più intenso che nei soggetti normali. Quindi qui avremo una disregolazione di quei sistemi che dicevo prima. Si chiama un meccanismo top-down. La parte top, alta, cognitiva del nostro cervello schiaccia le parti più antiche legate al reward, legate all'emozionalità, legate anche alla percezione corporea, come vedremo in seguito. E quindi è una disregolazione all'interno del sistema collegato però al sistema culturale, sociale, a quanto è premiante nell'immagine moderna, l'immagine proposta. Vi è poi anche l'infiammazione e la regolazione dello stress. Le ragazze anoressiche, corrompo visto che il tempo passa, hanno un'infiammazione che è paradossalmente tipica anche dell'obesità. Le persone obese, si sa, è noto da tempo, che hanno un basso livello di infiammazione, cioè hanno un'elevazione non elevatissima dei valori di citochine, della proteina ciriattiva, che però è costante nel tempo. Le ragazze anoressiche che sono l'opposto ce l'hanno anche loro e ce l'hanno sia per lo stress che è dato dalla malattia, ma anche per tutte le vicende che hanno attraversato la loro vita e per lo stress della malnutrizione stessa. Per chi fosse interessato, poi so che avete le diapositive, queste sono le meta-analisi, ma ci dicono poi poco, e soprattutto, ovvero, all'inizio della malattia. L'anoressia, quindi, è anche una malattia infiammatoria, con un rialzo delle citochine e anche, questo è un altro esempio di lavoro che non ho tempo di spiegarvi, una disregolazione del sistema HPA. Nei due modi, può esserci un sistema iporeattivo, laddove vi è una storia traumatica alla radice dei disturbi alimentari, quindi, in qualche modo, elementi di vita, le relazioni, le problematiche, portano a un esaurimento del sistema, rendono l'individuo sotto stress, malnutrito e ammalato, più fragile a una relazione allo stress. In altri individui che, invece, hanno una storia apparentemente muta di elementi traumatici, comunque lo stress è reso elevato e il sistema è iperattivo. Noi sappiamo, credo che debba spiegarlo a un pubblico come il vostro, competente, e quanto gli elementi infiammatori influiscano sul nostro cervello. Abbiamo quindi, di nuovo, un fattore di mantenimento. Questo è solo per dirvi che questo è anche molto studiato, coinvolge anche tutti i neuropeptidi che regolano la fame e la sazietà, l'aspetto metabolico, ma ovviamente non posso parlare tre ore e devo fermarmi. C'è anche il ruolo degli estrogeni in questo, che hanno a che fare con la gestione dell'ansia, ma non vorrei prendere troppo tempo e continuare, arriverei all'interocezione. L'interocezione è un elemento molto importante, un elemento molto importante per dirvi una ragazza anoressica, dopo un annetto, non percepisce più lo stimolo della fame e della sazietà. Se avete curato alcune persone che soffrono di questo, ve lo dice proprio, ma io non so più che cos'è la fame e la sazietà. Non solo questo, non percepiscono il malessere di tipo fisico, in grave stato di emanciazione e, come più noto, non percepiscono più correttamente il loro stato corporeo. Una ragazza anoressica vi dirà, se va bene, vi dice, sì, sono un po' magrolina, ma in fondo anche lei è un po' cicciottello, dov'è? È uno stile di vita, non è una malattia, cioè viene a perdersi la percezione del proprio corpo. Attenzione, la percezione in realtà è corretta, se gli si chiede la misura dell'arocco, cioè la conferenza addominale, mediamente chi soffre è più bravo di una persona che non soffre di disturbo alimentare, che tende a sorvastimarsi per motivi di disattenzione, anche culturali, ma è una distorsione di tipo emotivo, quindi la rielaborazione della propria percezione, non tanto la percezione, ma quando parliamo di interocezione c'è un nucleo forte, che è un nucleo filogenetico, che è la prima percezione che noi abbiamo, da cui nasce poi probabilmente il sistema nervoso, è la percezione dello stato delle nostre cellule e della percezione di quello che le nostre cellule possono introdurre, quindi l'aspetto di tipo gastrointestinale. E com'è l'alterazione per queste pazienti? Beh, curiosamente, davvero interessante, è alterata. Laddove, in risonanza magnetica funzionale, le ragazze che soffrono di un'oressia prendono zucchero, una parte decisamente integrativa, decisamente integrativa, si dice un hub, una parte, un relais fondamentale delle aree cerebrali, che è l'insula, funziona di meno negli aspetti percettivi. In chi è bulimico, guarito da bulimio, funziona di più. È un po' come se, al di là della nostra percezione conscia, il cervello, a seconda della condizione di malattia, variasse la capacità di percepire il gusto e questa potrebbe essere di nuovo una problematica, una disegrazione un po' più elevata perché potrebbe renderle più, come dire, meno sensibili a quello che è il reward del cibo. La cosa sempre interessante è che, al contrario, la parte anteriore dell'insula, che è una parte invece che integra più gli aspetti cognitivi, funziona di più quando una ragazza vede delle immagini del cibo. Quindi abbiamo un modello che è stato proposto finora, anche se poi ci sono delle prove nuove che vi porterò fra poco che lo mettono in qualche modo in discussione in cui si dice la ragazza che ha sofferto di anoressia nervosa ha un sistema in cui percepisce meno gli stimoli del corpo e percepisce molto di più gli stimoli esterni con uno sbilanciamento dei sistemi tra ciò che sento e ciò che invece vedo, ciò che credo di essere e ciò che invece credono gli altri di essere. Questo è stato confermato anche con stimoli non di tipo alimentare perché chiaramente l'alimentazione è legata anche al sintomo per esempio lo stimolo doloroso ha la stessa differenza rispetto ai controlli meno attiva l'insula nella processazione più attiva nell'anticipo quindi quando si è un anticipo sta per arrivare il dolore l'insula si attiva quando arriva si attiva di meno. Ma dato interessante come vedete nel 2018 quindi recente invece succede il contrario laddove abbiamo uno stimolo piacevole è stato riprodotto uno stimolo che assomiglia alla carezza al tocco al corporeo e qui parlando una platea legata agli aspetti di integrazione di medicina integrata penso che capiate quanto sia importante succede il contrario qui l'insula non prevede la percezione si attiva di meno come se fosse uno stimolo un po' sconosciuto non si capisce bene cosa sia che sta per arrivare ma quando arriva invece la stimolazione nel posteriore è più intensa e quindi abbiamo come vedete una parte che dovrebbe integrare la percezione con la nostra coscienza secondo alcuni studiosi è una parte che contribuisce fortemente alla coscienza del sé sia corporea sia emozionale in medicina integrata potremmo dire che è un'area fondamentale per l'integrazione dei sistemi e soprattutto per la lettura e l'integrazione dei sistemi è una parte che in qualche modo non riesce tanto a integrare e questo potrebbe essere davvero interessante nei disturbi alimentari andiamo avanti l'insula procede questo magari per maggiore chiarezza integrando i segnali prima percettivi che arrivano dalla nostro corpo nel posteriore integrando via via con le informazioni che arrivano omeostatiche ambientali ed oniche ma poi nella parte interiore le parti visive le parti motivazionali le parti sociali e le nostre idee che abbiamo quindi questo malfunzionamento ci direbbe proprio di una difficoltà di integrazione dei sistemi con un prevalere del top del cognitivo dell'esterno rispetto alla percezione spero di essermi spiegato in neurologia addirittura una lesione dell'insula in certe aree non entro nei dettagli porta a una malattia conosciuta come anosoiosia cioè l'individuo potrebbe avere una paralisi o un arto ma se una lesione dell'insula potrebbe non riconoscere questa paralisi quindi vi dice quanto è importante l'integrazione anche sulla conoscenza della percezione corporea sulla conoscenza della malattia qui non abbiamo alterazioni ovviamente così evidenti come neurologia però vi è quello detto non vi è la percezione di malattia e arriviamo poi alla parte che lo psichiatra come dire su cui lavora di più la psichiatria tradizionalmente che è la parte della regolazione emozionale beh la regolazione emozionale è molto importante le emozioni stamattina è stato detto molto bene nell'intervento sono dei potenti attivatori di comportamento filogeneticamente molto antichi e sono è stato detto ma lo ribadirei sono soprattutto corporee chi ha visto quel film per ragazzi e non solo di inside out vede bene cosa succede nel cartone animato per questo cioè l'emozione di per sé ha prima una radice corporea non c'è emozione forte stamattina si parla della gioia senza corporeità anzi devo dire che le emozioni del corpo sono le gioie più piacevoli senza arrivare soltanto al sesso perché non voglio poi essere tradotto così anche il sesso ma anche il movimento l'attività fisica la corsa il sentirsi bene eccetera eccetera c'è un distacco dalla corporità dalla corporità vissuta dalla corporità direi sentita che la ragazza anoressica ha che corrisponde a un distacco anche dalle proprie emozioni e questa è una cosa che la psicopatologia classica e fenomenologica descrive da tempo ma molto molto interessante cioè il corpo con le parole di Stanghellini riprese da Sartre è un corpo che viene visto soprattutto come un corpo visto da altri appunto un'immagine e questo denota un distacco certo dalla corporità ma anche dal proprio mondo emozionale che è un mondo integrato con l'aspetto corporeo ci sono molte prove su questo questo è semplicemente una meta-analisi che va a vedere quanto è difficile il riconoscimento delle emozioni ma soprattutto di riuscire a regolarle di riuscire a sopportare la nostra teoria che abbiamo proposto è che queste ragazze non è che non abbiano una capacità a riconoscere le emozioni ma che siano spaventate dalle emozioni quindi laddove l'emozione porta sconcerto porta scompiglio in fondo è qualcosa che destabilizza il sistema questo porti a una difficoltà nella gestione del sistema che viene risolta con un evitamento con una chiusura faccio conto che questa parte che dovrebbe essere integrata ma che non riesco a integrare non conti per me la schiaccio non la riconosco e per fare questo devo anche schiacciare il mio corpo un corpo emaciato è sicuramente un corpo che può vivere meno emozioni questo ha di nuovo un significato evoluzionistico rispetto alla sopravvivenza vi sono prove di questo si vede male credo ma faccio un riassunto che le emozioni ovviamente sono molto legate ai sistemi all'integrazione sociale e che le difficoltà emozionali specie in queste ragazze che hanno un esordio adolescenziale ragazzi siano legati proprio alle emozioni che si attivano durante la relazionalità emozioni di competizioni ma anche le emozioni della intimità che di nuovo è qualcosa di molto psicologico ma anche di molto corporeo pensate alla prossemica quando parliamo con una persona è un rapporto tra vicinanza di corpi e quando guardiamo una persona la guardiamo ci avviciniamo incrociamo gli occhi la allontaniamo è qualcosa di molto intenso che va al di là delle parole si sa che laddove i trattamenti funzionano meno è proprio perché gli aspetti socio-emozionali si sono modificati di meno e o la ragazza aveva una dimensione che si chiama potente evitamento delle emozioni quindi questo è anche un fattore prognostico negativo questo è un piccolo lavoro fatto assieme a tanti altri non va a noio ma nel nostro centro di Torino in cui lavoriamo e cerchiamo di curare al meglio le nostre ragazze lavoriamo molto sul ruolo delle emozioni proprio come aspetto relazionale non soltanto da un punto di vista cognitivo ma anche proprio da un punto di vista del lavoro di gruppo dell'integrazione nel cammino di integrazione fra cure come brevemente vedremo e arrivo quindi a concludere forse no così posso lasciare spazio eventualmente qualche parola di discussione mi è piaciuto molto quello che dicevano i colleghi di prima perché è la stessa conclusione che volevo portare io molti sistemi che si parlano fra di loro ma bellissima lo ridico con le stesse parole di prima i sistemi si interfacciano ma si interfaccia anche la ricerca non possiamo avere una conoscenza assoluta onnipotente integrata in realtà assumiamo punti di vista diversi a volte quello psicologico a volte quello endocrinologico quello neurologico quello immunologico che spiegano dei pezzi del fenomeno che poi possono servirci da paziente a paziente per chiederci se in quella paziente è alterato quel sistema lì a volte di più a volte di meno ma non ci porteranno questo è un problema epistemologico a una conoscenza unitaria questo lo diceva già Jasper psicopatologo tedesco dei primi anni del secolo scorso bellissimo libro di riflessione filosofica e clinica di psicopatologia generale in fondo il rapporto tra il mentale il relazionale e il biologico è un grande continente in cui noi avanziamo le conoscenze ma rimarrà sempre una foresta in mezzo che in qualche modo ci rimane oscura qualche volta si apre qualche passaggio a nord ovest ma l'idea di fondere è ovviamente un mito è un mito onnipotente se possiamo dire anche questo va a scapito della complessità la complessità si definisce proprio per la sua mancanza di definizione in termini poi generali facciamo però dei paradigmi di ricerca in cui facciamo delle ipotesi a volte le ipotesi sono verificate a volte meno ma l'importanza dei trattamenti non sto dicendo che i trattamenti nei disturbi alimentari debbano non essere psicologici i rapporti psicologici sono fondamentali ma come la stessa psicoterapia stanno evolvendo bisogna più dare spazio agli aspetti impliciti agli aspetti non corporei di nuovo stamattina sentivo parlare di neuroni specchio e i neuroni specchio non possiamo metterceli in tasca nelle psicoterapie le psicoterapie sono essenzialmente una relazione all'interno di certe regole su cui si lavora su un problema ma sono due esseri umani una relazione un intersistema che si attiva e quindi questo è fondamentale psicoterapie che tengano conto dell'implicito ma anche terapie alimentari fondamentali non c'è cura di queste ragazze senza un dietista un dietologo che ristabilisce una dieta corretta e sana e partirete dal termine direi equilibrata che è un termine che coglie sia gli aspetti nutrizionali che quelli psicologici bisognerebbe valutare il grado di infiammazione noi lo stiamo facendo e per alcuni pazienti è davvero devastante questo può dare degli interventi in acuto importanti bisognerebbe lavorare sul microbioma e questo per la ricerca viene fatto per le cure adesso non viene fatto ma anche un lavoro di riappropriazione del vissuto corporeo riappropriazione dell'aspetto del gusto di ciò che è il lavoro sul piacere della percezione vi sono terapie improntate sul tocco sul tatto che vengono fatte non hanno una prova ancora scientifica validata ma ci sono dei libri per esempio quelli di Nardone sono molto interessanti in questo senso e in genere tutte quelle terapie che allargano il sistema se chi sa mal l'anoressia in fondo riduce il suo aspetto ha un desiderio lo dico come una parola di una psicoanalista degli anni 80 di essere solo anima e non animale in realtà noi siamo destinati come si diceva prima anima e animale e speriamo anche spiritualità quindi questo poi certamente poi si può reinserire relazioni socializzazione alimentazione quindi questo è il nostro destino e infatti le ragazze guarite cosa ci dicono? ci dicono questa bella parola diventare intere di nuovo sembra un articolo scritto da loro per un corso di medicina integrata come questo e per diventare intero dicono attenzione cure che spingono troppo su un aspetto e non sull'altro ci hanno fatto male nella nostra storia clinica cercate come medici clinici di vedere tutti gli aspetti insieme e di aiutarci a mettere insieme i pezzi vi ringrazio e mi fermerai qua grazie mille al professore Abbate Daga grazie davvero ti chiedo sei molto di corso c'è spazio per eventuali domande due dici tu una domanda c'è qualcuno? prego grazie le volevo chiedere una cosa molto specifica quando ha detto della valutazione dello stato di infiammazione quali esami consiglierebbe per poter valutare questo aspetto? beh certo purtroppo sono esami che come dire il sistema sanitario nazionale non fa tanto sono soprattutto le citochine che non si fanno normalmente non vengono fatte nei nostri pazienti già più di secondo livello incomincerai quindi con l'esame classico più che la VES la proteina c-reattiva che a volte è smossa qui ho parlato di un'oressia nervosa ma c'è un bel lavoro fatto con amiche e collega internista a proposito di medicina integrata sugli obesi dove abbiamo fatto due gruppi di controllo obesi che facevano la dieta as usual con un bel equip obesi che facevano lo stesso più delle sedute abbastanza semplici di autoipnosi sull'alimentazione bene andavano uguali dappertutto tranne nella variazione infiammatoria e nella percezione della qualità della vita il lavorare con aspetti non tradizionali diciamo della medicina sull'obesità agiva proprio su questi aspetti quindi credo anche no nell'obesi abbiamo visto un semplice proteina c-reattiva perché avevamo pochi soldi per lo studio è stata modificata ok grazie l'ultima poi lasciamo andare il professore prego grazie professore volevo soltanto sapere una cosa che forse sembrerà un po' scontata ma secondo lei c'è un modo per prevenire nelle ragazze adolescenti o per accorgersi per tempo che stanno andando verso quella quella patologia o comunque qualche oltre ai campanelli d'allarme una prevenzione che si può consigliare ai genitori quando le ragazze cominciano l'evoluzione verso l'adolescenza sì beh allora la domanda su prevenzione in psichiatria è sempre una domanda gigantesca perché ci sarebbero aspetti bio psico e sociali ne parlavamo col collega sociologo prima e quindi è molto difficile perché innanzitutto la vera prevenzione sarebbe di tipo sociale ma esula il mio campo sicuramente ci sono due elementi attenzione a una dieta in adolescenza perché a volte si pigliano molto leggeri sembrano un gioco ma possono slatentizzare attenzione alla rigidità sulle aspettative da parte dell'intera famiglia e quello che vedono le ricerche un fattore di rischio familiare è il criticismo paterno cioè un padre che non valorizza questo dicono gli studi non valorizza e in qualche modo passa l'idea che la figlia non sia mai abbastanza adeguata ma è abbastanza corretta non per forza da un punto di vista corporeo può essere scolastico può essere del carattere e penso a questo aspetto preoccuparsi beh ci sono tutta una serie di segni si trovano anche su internet ma soprattutto quando una ragazza fa una dieta come dire non solo quantitativa ma qualitativa escludendo pesantemente carboidrati e quando si avverte che la ragazza non si ferma e che la diminuzione del peso sta sempre peggio e peggiori i suoi sintomi se una dieta è benigna una ragazzina che in genere ha normopeso a qualche chilo perde due tre chili e poi è soddisfatta invece questa malattia è un po' avalanga peggiora terzo elemento ve l'ho detto prima sulla manutrizione il cambio di carattere diventano queste ragazze diventano prima euforiche per qualche settimana contentissime poi facilmente molto più di quello che si crede perché non è la dieta sana di chi va a correre e fa esercizio fisico è una dieta selvaggia dopo qualche settimana i ragazzi diventano cupe, tristi labili e aumentano i tratti perfezionistici ad esempio una ragazza vista in settimana mi diceva prima di ammalarmi io andavo bene a scuola ma pigliamo anche 5 dopo è diventato un'ossessione grazie grazie a voi c'è un'altra domanda qua non finirebbero più Giovanni devi dirmi no ma è il bello ma sì dai dai l'ultimissima l'ultimissima il problema è che siamo lontani dai treni i vostri interventi prevedono visto che lei l'ha citato un intervento diretto sul circuito del piacere cioè cercare di recuperare in questi soggetti l'idea di un piacere qualunque che abbia naturalmente un presupposto sul corpo sì sì è chiaro che il bello è il difficile del mio lavoro mi rendo conto che poi ma qua mi capite sembriamo poi un po' stregoni ma mi capite cioè l'individuizzazione poi è la cosa fondamentale con alcuni ragazzi bisogna andarci molto molto con i piedi di piombo perché hanno un terrore del piacere con alcuni ragazzi invece magari hanno il conflitto perché hanno una parte del reward e qui bisogna andarci piano perché il rischio poi è la bulimizzazione quindi è individuale però certo qui anche per privacy non ho portato degli scritti dei pazienti ma quando faccio vedere ai miei studenti cos'è una vera guarigione porto uno scritto che è una paziente ma scritto dopo un po' di tempo di piaceri corporei molto semplicemente lei parla di andare a ballare parla di passeggiare alla sera coi piedi in acqua sul mare cioè è la ripresa non solo del piacere ma anche del contatto con la piacevolezza corporea grazie adesso stoppo le domande perché so che devi andare grazie mille Giovanni grazie mille Grazie a tutti.